Partiranno a breve i lavori di riorganizzazione del mercato di Vigevano. La giunta comunale, da tempo, vorrebbe vedere la disposizione dei banchi sistemata diversamente. La sistemazione odierna, infatti, lascia ampi spazi vuoti nella piazza. Con un riassestamento scomparirebbero e tutto sarebbe più ordinato. I lavori di riqualificazione di palazzo esposizioni, inoltre, impongono ormai una differente sistemazione. Tutta la parte degli alimentari sarà spostata verso l'angolo che dà su via Bramante. I banchi alimentari si troveranno quindi accanto a quelli del pesce. Verrà inoltre ridotta la segnalitica a terra. L'amministrazione comunale, per questo, parla di un miglioramento organizzativo ed estetico che porterà dei benefici. Il comune, nel 2022, aveva partecipato ad un bando regionale rivolto ai distretti urbani del commercio. In quella sede aveva presentato il progetto di risistemazione dell'intera area mercatale. Dalla regione sono arrivati fondi per 75.000 euro, non sufficienti per il progetto di riorganizzazione, pensato inizialmente dal comune. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di modificare il progetto di partenza e di conseguenza sarà riorganizzata solo la parte dedicata agli alimentari.